Per i quaderni del Bardo Edizioni abbiamo pubblicato Dove nessuno vive di Massimiliano Marrani, si tratta di una pubblicazione dove il poeta si interroga attraverso i suoi componimenti su che cosa significhi oggi scrivere poesia e soprattutto si interroga se ancora per lui stesso sia fondamentale, necessario, vitale scrivere poesia. Ma questa raccolta da diversi non è soltanto singolare per questo aspetto ma anche per una prospettiva, una visione che costruisce l'io poetico del nostro. Si tratta di un percorso che parte e si sviluppa attraverso un dialogo con degli assoluti. Degli assoluti che per praticità di comprensione per il lettore debbono chiamarsi Marco, debbono chiamarsi posata, automobile, bottiglia eccetera eccetera. I contesti sono facilmente percepibili, si tratta di contesti che appartengono a tutti noi, quelli narrati, quelli visionati, quelli visti da Massimiliano Marrani, ma soprattutto si tratta di un dialogo che l'autore costruisce con l'assoluto. Lì proprio dove nessuno vive perché tutto esiste.